adesso ci stava che c'è stasera qua buonasera ciao alve come si mi raccomando metti di bene al segno sono a casa si prendono fuoco ok allora lei ecco della persona che ci è venuta a parlare le parole si sono questa sera per discutere con voi di una questione molto delicata l'uso incongruo di aggettivi imbarazzanti è quello che quella che si si programma di realtà fa schifo però guardo vai vai l'aggettivo è quella parte variabile del discorso che si accosta un elemento qualificandolo o determinandolo ma attenzione non tutti gli aggettivi sono adatti a tutti i sostantivi è giovane lo si può dire di una donna di un professore di un chihuahua non di una maglietta la maglietta non ha un'età biologica la maglietta non può essere giovane al massimo è nuova questi spiedini non possono essere divertenti i calzini non possono essere geniali però quelli a righe neanche il tappeto non può essere simpatico questa aggettivazione non si usa nel linguaggio quotidiano è un'aggettivazione pubblicitaria non può tutto essere intrigante particolare straordinario formidabile spettacolare e abbastante carino no no contestualizziamo l'aggettivo altrimenti continueremo a parlare senza sapere quello che stiamo dicendo solo perché va di moda e quando qualcuno parla trendy bisogna saper schivare e contraattaccare così che mi sfuggi non trovo strada io le devo parlare di una cosa si tratta di un'offerta molto carina è molto divertente guardi è un capo simpatico è molto frizzante guardi lo troverà fresco è un prodotto giovane è intrigante è alla moda è calza bene è tecnologico le faccio uno sconto devastante è performante molto perfetto